Buongiorno a tutti ragazzi della Terza C, seguiremo questa lezione che non sarà eccessivamente lunga per presentare un po' in maniera sintetica il Giappone e le problematiche legate a questo paese. Siamo nell'Asia orientale e come vedete, come vi avevo chiesto di disegnare la carta della Cina con le caratteristiche principali del territorio. Siamo nell'Asia orientale che comprende anche la Mongolia più a nord, comprende la Corea del Nord e la Corea del Sud, ingrandiamo un po' la carta. Ecco io sono sul testo di Maps e non sto seguendo il vostro testo in quanto non l'ho caricato ecco su questo computer. Quindi voi siete alla pagina 204, seguenti. Quindi il Giappone, l'isola di Taiwan e in particolare ci concentreremo quindi sul Giappone. Come è caratterizzata questa parte dell'Asia, ha un clima continentale, è un clima umido e temperato, però ci sono forti differenze climatiche se consideriamo la parte nord e la parte sud di questa vasta, vastissima area. Prendiamo quindi in considerazione il Giappone che è la parte più orientale dell'Asia orientale. Quindi andiamo alla pagina 208 del testo di Maps. E vediamo, prendiamo in considerazione innanzitutto la scheda relativa al Giappone, mi dite intanto la bandiera giapponese che è un cerchio rosso in campo bianco, ha una superficie che è levemente superiore a quella italiana, 378 circa chilometri quadri, una popolazione che invece è più del doppio di quella italiana, 127 milioni di abitanti, con una densità elevatissima, però questa densità varia a seconda delle aree del paese. Quando poi esploreremo insieme la carta multimediale, vedremo che le aree del Giappone non sono abitate in maniera omogenea. Capitale ovviamente è Tokyo, governo è una monarchia parlamentare e poi vedete lingua, religione, moneta, lo yen, il PIL per abitante è piuttosto elevato e come indice ISU è al 17esimo posto su 187 paesi. ISU, se ricordate, è una sigla che sta a indicare l'indice di sviluppo umano, vuol dire che essere al 17esimo posto è tra i paesi che tutto sommato stanno meglio. Allora che cos'è il Giappone? Il Giappone intanto è un arcipelago perché significa che è costituito da isole, infatti se noi andiamo alla pagina successiva abbiamo la carta del Giappone che voi avete a pagina 204, invece questa si trova a pagina 209 ed è una cartina abbastanza chiara. Quindi vediamo che il Giappone è costituito principalmente da quattro isole però da una miriade di altre isolette, in totale ci sono quindi altre 3.000 isole. Quali sono le più grandi? Le principali sono l'isola di Hokkaido che si trova al nord, l'isola di Honshu che si trova al centro, poi abbiamo l'isola di Shikoku che è la più piccolina e l'isola di Kyushu che è quella più a nord. Estendendosi più o meno come il nostro paese in latitudine per parecchi gradi da nord a sud ovviamente le sue caratteristiche climatiche variano notevolmente. Che caratteristica ha il Giappone? Intanto se vediamo i suoi confini ovviamente è circondato dal mare su entrambi i lati perché troviamo il mare del Giappone che lo troviamo a ovest anche se è scritto mare dell'est tuttavia comunque si trova a ovest del Giappone è considerato est per i paesi che si affacciano su questa costa come vedete la Corea una parte quindi della Russia e la Cina in sostanza e il mar cinese orientale vedete. Quindi a ovest è circondato dal mare del Giappone e a est invece si è bagnato dell'oceano. pacifico. Per il resto ovviamente è un territorio che come vedete prevalentemente montuoso e la città di Tokyo si trova vedete nell'isola principale di Honshu. Hiroshima dove è avvenuto uno dei disastri nucleari durante la seconda guerra mondiale. inoltre le altre città più importanti Kyoto, Kobe e Osaka che poi vedremo insieme. voi sapete che il Giappone è stato interessato da uno dei disastri anche di un reattore nucleare a Fukushima che è stato appunto interessato da un evento di tsunami e poi vedremo queste onde anomale e come si generano. sul vostro testo a pagina 204 se avete scaricato il vostro libro potete seguire il video è un breve video che vi spiega lo tsunami altrimenti in qualsiasi canale di youtube potrete trovarlo. partiamo quindi ritorniamo alla pagina precedente per esplorare insieme il Giappone attraverso le lezioni multimediale e vi suggerisco di prendere degli appunti mentre appunto vediamo il video. spero che vi sia chiaro comunque il fatto di prendere appunti ecco potrebbe anche essere fatto anche sul vostro testo nel senso che una volta letto potrete anche approfondire meglio gli argomenti con degli appunti. allora il Giappone quindi vediamo gli aspetti fisici del Giappone che saranno quindi vedete le quattro isole che lo caratterizzano Hokkaido, Onshu, Shikoku, Kyushu, il mar cinese orientale più a sud, il mar del Giappone, l'oceano pacifico a est. andiamo avanti i rilievi se noi andiamo a vedere quali sono i rilievi principali intanto dobbiamo dire che il Giappone è un territorio molto giovane pertanto sismatico pertanto interessato da forti terremoti essendo anche trovandosi anche in uno punto di frattura diciamo della crosta terrestre. se io vado a cliccare sulla singola nota le zone montuose hanno una copertura vegetale di fitti boschi di conifere e foresta temperata di latifoglie e quindi ci sono anche piante tropicali specie tropicali come bambù e alberi della canfora. vediamo di altri punti interessanti eccolo qui il nostro Monte Fuji più volte rappresentato innevato per buona parte dell'anno uno dei simboli del paese sacro secondo la religione shintoista e meta anche di pellegrinaggi il Monte Fuji quindi venerato è un vulcano un vulcano innevato perché si tratta di una altitudine notevole vedete dove si trova abbiamo cliccato il questo quindi il Monte Fuji dove si trova si trova nell'isola di Honshu la principale queste sono le principali montagne ecco appunto stavamo dicendo del pericolo sismatico che caratterizza il paese in quanto il Giappone è punto di scontro tra la zona del Pacifico e quella asiatica quindi è caratterizzato da fenomeni vulcanici primari e anche secondari e di grande intensità e il rischio sismico è sempre molto molto elevato ancor più che della nostra penisola che già è fortemente sismatica i fiumi i fiumi sono brevi ovviamente anche Scinano è il maggiore i fiumi sono brevi e non hanno una portata regolare quindi laghi vulcanici e molte sorgenti termali abbiamo detto fenomeni quindi vulcanici secondari le sorgenti termali le coste soprattutto quelle del Pacifico frastagliate rocciose battute da tempeste mentre quelle sul Marte e il Giappone quello che bagna in Giappone a ovest sono molto più regolari anzi vi sono spiagge tipicamente tropicali lo vedete anche il colore delle acque e le acque cristalline il clima il clima varia perché varia molto dal nord a sud nell'isola di Hokkaido trovandosi molto a nord gli inverni sono freddi e nevosi mentre nell'isola più in basso quella più a sud l'isola di Kyushu ovviamente il clima è subtropicale tropicale e troviamo appunto le foreste di bambù e quant'altro le precipitazioni quindi sono molto abbondanti vi è l'influenza dei monsoni esattamente come in India i monsoni che interessano la costa sul golfo del Bengala proviamo a svolgere un test quindi quante sono le isole principali da cui è formato l'arcipelago proviamo quattro in via benissimo a Ovest il paese è bagnato dal mare del Giappone vero o falso? continuiamo il monte Fuji si trova sull'isola di Kyushu falso abbiamo visto che è invece sull'isola di Oshu il monte Fuji è un vulcano esattamente è un vulcano innevato per di più con le cime innevate i fiumi sono lunghi e ricchi d'acqua abbiamo visto che hanno una portata irregolare e sono brevi poiché il territorio è stretto e allungato e quindi sono costretti a scendendo dalle montagne a gettarsi molto rapidamente verso il mare quindi falso a Okaido in genere d'inverno nevica è l'isola più a nord quella interessata dalle freddi correnti artiche pertanto benissimo eventualmente il test si può ripetere ma per il momento ecco ecco altre caratteristiche molto in breve la popolazione la popolazione vedete se io vado mi da la densità no? per visualizzare i dati della densità la densità della popolazione è data da abitanti per km quadro quindi se io vado a nord Okaido 66 abitanti per km quadro se io mi sposto più a sud nelle varie province e regioni esempio aumenta più eccolo qua 210 nell'isola di Kyushu vediamo 359 quindi vediamo quanta differenza vi è tra questa regione e a mano a mano che andiamo a sud la densità aumenta quindi la parte più abitata del paese è nel centro sud ecco con questo diciamo anche la prossima volta potremo approfondire le città ad esempio Tokyo la capitale politica e culturale del paese la geostoria vado velocemente e la prossima volta possiamo anche approfondire vedete questo spiega un pochino del periodo preistorico fino al nostro secolo come potete vedere si sposta poi per quanto riguarda le attività economiche allevamento pesca ad esempio la pesca ha una parte molto importante come per il paese quindi è una risorsa importantissima ma anche l'industria uno straordinario sviluppo industriale di che cosa del settore dell'alta tecnologia ma anche della lavorazione della seta della carta del vetro della ceramica se pensiamo quindi all'industria più manifatturiera anche all'industria siderurgico chimica meccanica e pensiamo quindi alle auto e moto giapponesi che conoscete benissimo per quanto riguarda l'energia l'energia ovviamente l'energia è data è di origine termica quindi impianti nucleari che hanno sempre più fornito il fabbisogno diciamo soddisfatto il fabbisogno crescente della nazione e poi il terziario molto sviluppato il terziario con istituti bancari finanziari via di comunicazione eccellenti e il paese metaturistica molto frequentata tuttavia il tragico evento del 2001 e quindi